Ciao a tutti, sono sempre Greg e questo è il mio canale in genere horror. Su Netflix è disponibile un thriller, un nuovo thriller coreano, un'opera prima, dal titolo Unlocked. È in realtà un remake, un rifacimento di un film già adattato da un romanzo ed è appunto un remake di un film giapponese, Stolen Identity, diretto da Idea Nakata, quello di The Ring, tanto per capirci. Il film coreano è un thriller che narra la storia di una ragazza che perde dopo una festa il suo smartphone, il suo telefono e dentro il suo telefono c'è tutto, c'è tutta la sua vita perché come tanti ragazzi utilizza lo smartphone per qualsiasi cosa e dentro ci sono foto, cose personali, lo utilizza nel tempo libero, nel lavoro e perdere il telefono per lei è una vera e propria tragedia. Riesce a riottenerlo perché glielo riconsegnano ma glielo riconsegna quella persona che in realtà ha modificato, prima di ridaglielo, l'ha modificato questo telefono e può controllare, utilizzando la videocamera, controllare la nostra protagonista che da lì in poi non riuscirà più ad avere una sua vita proprio perché la sua vita è connessa al mondo social collegato con il suo dispositivo e quindi non controlla più i messaggi che manda, creando situazioni veramente difficili nella sua vita a livello lavorativo, a livello di amicizie e quindi facendo diventare tutto ciò un vero inferno per la nostra ragazza protagonista del film. Questa è l'inizio diciamo della storia della narrazione ma che in realtà non è l'unica all'interno di un intreccio narrativo che è composto da un altro filone narrativo parallelo in cui un poliziotto segue le tracce di suo figlio in realtà perché le trova legate a dei luoghi dove vengono ritrovati dei cadaveri in mezzo a dei boschi. Quindi questo detective, questo poliziotto, seguirà un po' un'indagine non del tutto ufficiale diciamo per cercare di capire il perché e come possa essere coinvolto il suo figlio che non vede da un bel po' di tempo, da qualche anno e che cosa sta dietro a questa, al cercare il figlio dietro anche una serie di omicidi. Questo thriller è costruito appunto con questi due, non è una trama, una sottotrama ma sono due vere e proprie situazioni e filoni narrativi paralleli, tanto paralleli che potrebbero risultare un po' slegati all'inizio del film. In realtà però il tutto diventa abbastanza coinvolgente perché tutto sommato anche se si deve accettare un po' le regole di un certo thriller che fa funzionare le cose perché accadono, non ci sono grosse forzature ma diciamo bisogna accettare anche quello che è tutto sommato, che sono le regole imposte da questa narrazione. Niente di trascendentale, niente di clamoroso ma se si accetta quello che viene visto il film diventa un thriller gradevole che è abbastanza vincente, che coinvolge con dei personaggi che svolgono e danno alla narrazione un certo tipo di interesse soprattutto perché queste due storie sono emotivamente molto forti. Da una parte una ragazza che è sconvolta da quello che poi non riesce più a fare la modifica del suo telefono sta comportando dei veri e propri drammi all'interno della sua vita, nella vita di tutti i giorni, come ho detto prima, sia a livello lavorativo che a livello di amicizia e la sta completamente distruggendo. Al tempo stesso soffre una sorta di stalkeraggio da parte di chi le ha portato via il telefono e dall'altra una situazione altrettanto emotivamente forte e sentita da parte di un padre, di un ragazzo con cui non ha più legami da tempo e che sta cercando di ritrovare perché preoccupato da questa serie di omicidi e dal fatto di aver trovato qualcosa, delle tracce sue sul luogo dell'omicidio. Ecco, il tutto rende il film abbastanza intrigante e che rende poi partecipe allo spettatore fino alla fine della narrazione, il tutto appunto corredato anche da un certo, non un gran suspense però un certo tipo di costruzione delle dinamiche che ci porta ad essere anche incuriositi verso quello che, chiamiamolo, colpo di scena, in realtà non è questo gran colpo di scena però un'evoluzione della storia che effettivamente qualche sorpresa o almeno una sorpresa la concede. Quindi nel complesso, posso dire, non si può parlare molto di più della trama che comunque è questa, mentre l'evoluzione del film per quanto possa essere abbastanza lineare, come ho detto, una piccola sorpresa la potrebbe riservare nel complesso per un thriller che riesce ad appassionare fino alla fine senza grossi picchi e senza essere il filmone dell'anno. Però le produzioni coreane riescono sempre a mantenere un certo tipo, una certa qualità piuttosto alta e anche in questo caso abbiamo la possibilità di vedere un thriller che comunque, sebbene riadattato già da un romanzo e rifatto già da un'edizione giapponese, propone a modo suo delle dinamiche che nel contesto di un periodo in cui lo smartphone diventa sempre più centrale nella nostra vita, parla di questo, parla di quanto si possa essere schiavi e di quanto possa essere pericoloso lo smarrirlo e poi recuperarlo quando magari è troppo tardi e soprattutto le situazioni di pericolo nell'avere uno stalker che effettivamente riesce ad entrare nell'intimità della vita di una persona soprattutto grazie alla vulnerabilità che una persona può avere nel momento in cui ha tutto e tutta la sua vita ce l'ha nello smartphone e quanto possa essere difficile poi recuperare un'identità che è data dal dispositivo stesso. Le amicizie, i colleghi non riconoscono più, non parlano più con la persona ma si basano su quello che la persona comunica con il suo dispositivo e attraverso i messaggi che il dispositivo lancia. Quindi non c'è più nemmeno il contatto umano e la possibilità di riuscire a spiegarsi con le persone da un punto di vista umano e diretto perché quello che conta è quello che hanno fatto con il loro dispositivo e questo è il primo aspetto. L'altro è comunque una situazione emotivamente forte e importante come il rapporto padre e figlio di due persone che non si parlano più e il dramma che ne può derivare da non avere un rapporto che si dovrebbe avere per aiutarsi a vicenda. Ecco, due storie e due filoni narrativi come dicevo abbastanza staccati e paralleli ma comunque congegnati piuttosto bene perché si segue e ci si appassiona ad entrambe le situazioni aspettando che il tutto converga verso l'esito finale di un film che è a tutti gli effetti un thriller anche se non ha scene particolari di tensione, di suspense o di salti sulla sedia che per fortuna non ci sono perché non avrebbe avuto senso averli in questo film che però rimane, come ho detto, un thriller gradevole da vedere senza grossissime aspettative e senza picchi particolari. Alla prossima!